I caratteri dei compositori sono stati diversissimi nel corso della storia della musica e alcuni abbiamo imparato a conoscerli. La superbia di Beethoven, l'instabilità mentale di Schumann, la calma di Brahms, tutte caratteristiche che sono poi andate inevitabilmente, chi più chi meno, a confluire, a ripetersi, a riversarsi nelle rispettive composizioni. Ed è successo anche con Schubert, perché dobbiamo capire che personalità aveva Schubert. Beh, intanto era uno che non si prendeva sul serio e non riusciva a riconoscersi non soltanto nella società biannese del tempo in cui viveva, ma addirittura nel mondo intero, nell'umanità intera. Si sentiva un alieno, uno straniero e la sua mente viaggiava a delle lunghezze d'onda diverse da quelle a cui viaggiavano quelle degli altri. E si sentiva impacciato, imbranato insicuro anche nelle azioni quotidiane più semplici. E forse è tutto questo che ha causato, ha caratterizzato una caratteristica molto specifica della sua musica, che è la leggerezza. Ascoltare la musica di Schubert significa, pensate per un attimo, diventare piccolissimi, alti così, come delle formichine, posarsi su una foglia e venire trasportati dal vento. La musica di Schubert non ha una direzione, non è paragonabile a un fiume, a un corso d'acqua che nasce in montagna in un punto A preciso, ha un suo letto, un suo percorso e arriva in un punto B, il lago o il mare. E la musica di Schubert non è nemmeno paragonabile ad una freccia che viene scagliata da un arciere in un punto A, segue la sua arcata, la sua traiettoria arriva in un punto preciso B. La musica di Schubert è un alito di vento che non si sa bene da dove inizi, va in avanti, va indietro, fa dei volteggi, fa dei gorgheggi, torna magari a ritoccare dei punti su cui era già passata, magari sì, magari no, è dettata dall'incertezza, dall'instabilità, dalla leggerezza. E questo vento va avanti, inevitabilmente e anche lentamente, è capace di andare avanti per chilometri, chilometri e chilometri passando sopra i panorami più incredibili, sopra mari, fiumi, montagne, vulcani, colline e poi ad un certo punto questa musica scompare all'improvviso, così come all'improvviso da non si sa dove era apparsa. E in quanto vento, la musica di Schubert non si può vedere, non si può toccare, ma si può sentire, si può percepire. Ed essendo una musica di Schubert, è una musica che, come un vento, volteggia non in faccia, ma sopra le nostre teste, se ne sta sulle sue. Ora, io non so dirvi e non posso dirvi che tipo di vento sperimenterete questa sera, se più caldo o più freddo, più intenso o più lieve, perché ognuno di noi sperimenta il vento in modo differente a seconda di ogni situazione. Lascio quindi a voi il piacere di scoprirlo. Buon ascolto.